Credo che stiamo vivendo in quella che io chiamo una terza crisi. Nella storia ci sono state due grandi crisi. La prima era quella greca. E i greci lo hanno trasferito nel teatro. Guardate, ci sono delle statue greche sul muro. E le loro bocche sono aperte. Secondo voi sono aperte per disperazione o paura? Sarebbe una domanda interessante da chiedergli. Ma non possiamo. Ma sono stati loro a creare la prima forma di democrazia. E hanno creato la prima forma di teatro. E queste due cose vanno insieme. Qualsiasi cosa il teatro faccia ha a che fare con la politica. E' in modo responsabile e creativo. O in modo irresponsabile e distruttivo. Ma i due vanno necessariamente insieme. Perché quello che ha fatto la democrazia è che si è chiesta per la prima volta Cosa sono gli esseri umani? E' una domanda davvero straordinaria. Nessuno aveva chiesto prima d'ora, prima dei greci. Perché prima le persone venivano detto cosa erano. Dal governo, dagli dèi. Uno delle più profonde osservazioni che derivano dal teatro greco E' stata fatta da Euripide E' Orestes che uccide sua madre Perché gli è stato detto di farlo E chi gliel'aveva detto? Gli dèi. E Orestes dice Perché adesso mi state punendo? E il piccolo Dio sul palcoscenico Sta parlando del grande Dio Apollo Dice Non lo dire a nessuno Dio ha fatto un errore Non sarebbe bellissimo se il Papa in un sermone Dicesse Dio si è sbagliato? Bond a teatro Io ho detto Ammazza, sono felicissimo E' bellissimo Ragioniamo anche come accompagnarlo con un libro Che non sia semplicemente Il testo Un'edizione teatrale Ma che sia appunto qualcosa che accompagna anche il ragionamento che c'è dietro Mettiamo insieme alla traduzione del testo Che spesso appunto non abbiamo Quando andiamo a teatro E' una cosa assurda In tutti i paesi, gli altri paesi appunto Uno va a teatro con il testo E se lo può leggere mentre segue Oppure se lo può leggere prima o dopo E poi appunto questo libro è un libro strano Insomma se lo vedete E' una specie di accumulo Di ragionamenti Anche ininterrotti effettivamente Ed è una cosa strana che appunto Lo rileggevo Oggi Mentre leggevo anche Il Relier di Shakespeare E una delle cose che mi accadeva E che a un certo punto Veramente quello che diceva Bond Che non esiste presente E passato E' vero particolarmente per alcune cose Che dice Bond Che diceva nel 1971 Abbiamo creato tutto ciò che ci minaccia Il gigantismo militare L'isteria morale La schiavitù industriale E tutta la brutta aggressività Della cultura commerciale 1971 Si scrive di violenza Con la stessa naturalezza Con cui Jane Austen Scriveva di buone maniere La violenza struttura E ossessiona la nostra società E se non vi rinunciamo Non avremo futuro Chi pretende che gli scrittori Non scrivano di violenza Vuole impedire loro Di raccontare di noi E dei nostri tempi Sarebbe immorale Non scrivere di violenza Grazie